La neve è ancora abbondante sulle Alpe Puane, ma in riva al mare c'è voglia di estate o almeno di primavera. Il prossimo sarà il primo weekend di apertura della stagione 2018 per gli oltre 450 stabilimenti balneari versilesi. La Domenica delle Palme vedrà aperte diverse decine di bagni, un primo banco di prova in vista del Ponte di Pasqua, il primo e due aprile, quando le aperture saranno più massicce. A Viareggio, spiega il presidente dei balneari Pietro Guardi, quasi il 60% ha scelto di aprire per le festività pasquali. A Marina di Pietrasante è il 30%, 10 banni sono già attivi in questi giorni al Forte, complice anche il lancio del Rally del Ciocco e della Valle del Serchio. Certo non siamo a pieno regime, ma si potrà usufruire di lettini e sdraio per prendere il sole, pranzare in spiaggia o servirsi dei bar. I primi dati ci dicono che circa una decina di stabilimenti balneari sono pronti per aprire per il weekend di Pasqua. Chiaramente il tempo farà la differenza perché se il clima non migliora sarà difficile aprire. Ho visto che molti associati puntano anche sui weekend del 25 aprile perché è un altro punto molto importante e credo che comunque con il mese di aprile oltre la metà degli stabilimenti balneari e l'idio di Camaiore saranno già aperti e pronti. Quindi chiusi definitivamente gli ultimi machillaggi e dei bagni? Sì, ormai è già da qualche settimana che stiamo preparando gli stabilimenti balneari per l'imminente stagione. Per i balneari il ponte Pasquale segna l'avvio delle prenotazioni per la stagione estiva che decollerà dal primo maggio con l'apertura alla balneazione. Resta solo da sperare che il meteo allontani l'inverno e lascia arrivare finalmente area di primavera.